Al centro dell'indagine del dossier di Legambiente oltre 4.000 campioni di alimenti di origine vegetale e animale. Nonostante la bassa percentuale di campioni irregolari, cioè con principi attivi oltre le soglie consentite, pari all'1%, è necessario evidenziare che solo il 54,8% del totale risulta senza residui di pesticidi. Lo scorso anno la rilevazione aveva raggiunto quota 63%. A destare preoccupazione inoltre è il 44,1% di campioni in cui sono state trovate tracce di uno o più fitofarmaci tra monoresiduo e multiresiduo, seppur nei limiti di legge. Altro dato, in linea con il trend degli anni passati, frutta e verdura si confermano le categorie più colpite, come sottolinea Silvia Tauro, presidente Legambiente Abruzzo. L'impatto su mele, pere, proprio alimenti di allarghissimo consumo, frutta esotica, in particolare kiwi, mango, banane e gran parte quindi della filiera della verdura di largo consumo, con l'impatto soprattutto di monoresidui e multiresidui, che restano sì all'interno di soglie di regolarità, ma con un impatto comunque importante sulla salute degli esseri umani. A questo punto però che cosa si può fare per evitare tutto questo? Spingere sulla transizione ecologica del settore agroalimentare, quindi alzare l'asticella dell'agricoltura integrata, continuare a promuovere l'agricoltura biologica, intervenire anche sulla salute e il reddito, quindi alla sicurezza degli operatori del settore, per una sostenibilità che vada dal campo alla tavola, in particolare quindi premere sui biodistretti, di cui in Abruzzo da poco sono state emanate le linee guida in accordo con la decretazione nazionale. A proposito delle norme nazionali, Lega Ambiente avverte. Abbiamo visto quest'anno ad esempio il rinnovo per dieci anni del grifosato, che comunque dal 2015 è riconosciuto come un probabile quindi alteratore oncologico per la salute umana. Quindi in questo senso la legislazione nazionale deve premere sulla comunità europea perché siano più stringenti i limiti e soprattutto la legislazione nazionale deve evitare deroghe sulle sostanze, quindi riconosciute come nocive. Ricordiamo 3.600 deroghe delle legislazioni nazionali atturate negli ultimi sei anni.